adesso qua mangia la noce dai la noce scelta brava brava adesso la noce aprila e mangia nel contenuto brava Iana il primo cane al mondo che si schiaccia da solo le noce e se le mangia lasciando la scorta fuori il guscio guarda tiene proprio brava Iana brava Iana brava Iana